Oggi parliamo di ΔT medio logaritmico. Di cosa stiamo parlando? Della differenza media logaritmica di temperatura che si ha tra primario e secondario di uno scambiatore. In sostanza è la differenza che c'è tra le temperature del fluido primario e le temperature del fluido secondario. Il valore del ΔT medio logaritmico è uno dei valori principali per la determinazione della superficie di scambio di uno scambiatore, unito ovviamente ai fluidi, ai coefficienti globali di scambio, a tutta una serie di altri fattori. Ma direi che è un fattore determinante che spesso serve anche per capire quale tipo di scambiatore è meglio utilizzare. Mi spiego. È molto più facile riscaldare dell'acqua fredda avendo a disposizione del vapore molto caldo che non riscaldare dell'acqua già calda con un'acqua leggermente più calda. Se dobbiamo scaldare dell'acqua per un impianto di riscaldamento domestico a 70 gradi e abbiamo a disposizione dell'acqua a 75 gradi. Capite tutti che ci vuole molto tempo. Perché? Perché le due temperature sono molto molto vicine. Se invece abbiamo del vapore a 130 gradi riscaldare dell'acqua a 70 gradi è molto facile. Abbiamo una fonte primaria di calore che è molto calda. Ne avevo già parlato in precedenza quando dicevo che è sempre meglio avere una fonte di energia a temperatura elevata, ovvero poca acqua molto calda che non tanta acqua tiepida, ad esempio, per fare dei recuperi di calore. Il concetto è praticamente lo stesso. Gli scambiatori di calore a piastre consentono di lavorare con delta T medi logaritmici molto molto ristretti perché hanno il grosso vantaggio, come abbiamo spiegato più volte, di poter lavorare in perfetta controcorrente, di avere un moto turbolento molto spinto che ne aumenta i coefficienti di scambio. Nel caso di uno scambiatore a fascio tubiero questo delta T medio logaritmico deve essere un po' più ampio, altrimenti abbiamo delle superfici di scambio molto elevate perché i coefficienti di scambio sono più bassi rispetto a uno scambiatore a piastre. Se addirittura parliamo di scambiatori a pacco lettato, quindi di scambio aria, acqua o aria vapore, questo delta T medio tende ad allargarsi ancora di più. Diversamente abbiamo delle superfici di scambio molto elevate. In sostanza il delta T medio logaritmico è inversamente proporzionale alle superfici di scambio. Più piccolo è il delta T medio logaritmico, più grande sarà la superficie di scambio necessaria per raggiungere queste temperate. Vi faccio un esempio pratico ed è un caso che si ritrova molto spesso nei nostri dimensionamenti. Ammettiamo di avere dell'acqua da un gruppo frigorifero che ci arriva a 7 gradi. Tipicamente i gruppi frigoriferi lavorano con un salto termico di 5 gradi e l'abbiamo già parlato in un video precedente. Quindi avremo l'acqua del chill, entra nello scambiatore a 7 gradi e torna al gruppo frigorifero a 12 gradi. Sul secondario vogliamo raffreddare il più possibile l'acqua del processo. Qual è il limite? Diciamo che se lavoriamo con uno scambiatore di calore a piastra il limite sono 3 gradi, 2 gradi e mezzo di delta T medio logaritmico. Cosa vuol dire? Che se sul primario abbiamo l'acqua del frigorifero a 7 gradi, sul secondario, ovvero sul processo, possiamo raggiungere una temperatura di raffreddamento dell'acqua del processo di 10, 9,5 gradi. 9 gradi è già molto spinto, è vero la verità, si fanno dei calcoli ma solitamente vengono delle superfici molto elevate. Se avessimo uno scambiatore fasciotubiero questo limite aumenta parecchio, ovvero noi abbiamo l'acqua se il nostro gruppo frigorifero sempre a 7 gradi, quello che riusciamo a ottenere sul secondario tipicamente sono 12 gradi, cioè almeno un 5 gradi in più. Se vogliamo abbassarci rischiamo di dover mettere più scambiatori in parallelo e in serie, quindi molta superficie per poter raggiungere le stesse prestazioni, quindi per raggiungere le stesse temperature. Quindi il fattore del delta T medio logaritmico è estremamente importante quando andiamo a dimensionare gli scambiatori. Ricordatevi che anche mezzo grado ha un significato estremamente sensibile sulla superficie di scambio e quindi sulle dimensioni, ovvero sul costo dello scambiatore. Se volete qualche informazione in più contattateci, vi facciamo qualche esempio di calcolo. Vi saluto!